Buona giornata, buona giornata, buona giornata a voi che cercate di cambiare il mondo. Corriamo via tutto il tempo per evitare di trovarci faccia a faccia con noi stessi. Questa frase è fondamentale per la tua crescita. Sì, corriamo via tutto il tempo per evitare di trovarsi faccia a faccia con noi stessi. Tante volte ci creiamo tante scuse, tante occupazioni, tanti lavori, tante devo, 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 devo. Questo perché? Perché tante volte abbiamo paura di trovarci faccia a faccia con noi stessi. Allora, proprio qui dalla baia dei fenicotteri, io vi dico imparate dai fenicotteri. Imparate a stare su una zampa sola. Imparate a stare faccia a faccia con voi stessi. Imparate che potete sbagliare, così come i fenicotteri possono cascare, stando su una zampa sola, ma non cascano. E se, put a caso, dovesse succedere, non succede niente. Sono consapevoli del loro essere precario, del loro essere, sì, precario, della bellezza, della propria precarietà. Imparano a vivere il momento, a vivere il qui e ora. Proprio così imparano questa fondamentale caratteristica, facendo come chi ama fare yoga, fare l'albero. In maniera così, come si dice, precaria, ma comunque stabili. Quindi anche se non sono perfettamente stabili, perché stanno su una gamba sola. E è questa cosa qui che li rende veramente, veramente forti, perché si mettono tutti i giorni a confronto con la sua precarietà e amano questa precarietà e per questo diventano sempre, sempre, sempre più grandi. Oggi vi auguro una bellissima, grandissima giornata di crescita con voi stessi, imparando a crescere con voi stessi, non avendo paura di voi stessi, anzi facendo vedere al mondo la bellezza che siete. Perché sì, anche te sei bellissimo, stra-bellissimo. Basta solo che ne prendi consapevolezza. Daniel Paci, per felicità e pace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Ciao. Ciao.